riassunti di la vis indier che coprono tutta la puntata turca numero 28 eda è stata rapita durante la festa dell'ennè quando serkan arriva lì trova tutte le donne addormentate manca solo eda serkan sveglia la madre e le altre e chiede di eda ma nessuna si è resa conto di ciò che è successo si sveglia l'uomo della sicurezza che dice di aver sentito il rumore di un elicottero nelle vicinanze e serkan corre in auto per raggiungerlo nel frattempo se mia come si sveglia chiede al suo assistente chi potrebbe essere il responsabile del rapimento di eda e lui risponde che è stato il signor melì serkan insieme alla polizia si mette all'inseguimento della macchina dove si trova eda la bloccano e lui subito la raggiunge e la abbraccia sollevato intanto in ufficio arriva una busta che viene messa insieme ad altra posta e viene incaricato a erdem di consegnarla a leila lui molto seccato la appoggia maldestramente su un tavolo e la busta cade a terra senza che se ne accorga nessuno se mia arrabbiata per quello che è successo ad eda telefona melì e gli urla addosso tutta la sua rabbia e lo avverte che se rimetterà piede in turchia lo distruggerà lei la mentre parla con melo e erdem si chiede come mai balgia nonostante non abbia bevuto il sorbetto dell'ennè sia ugualmente svenuta e si chiedono se mente serkan e eda annunciano a aidan e ai fer che si sposeranno il sabato successivo questo annuncio porta le due a bisticciare su dove gli sposi dovrebbero andare ad abitare anche quando passano a parlare dei preparativi le due si scontrano per idee opposte a che eda interviene dicendo che loro vogliono un matrimonio semplice eda come arriva in ufficio parla con la nonna che le dice che dopo ciò che le è successo la sera prima non ostacolerà più il matrimonio anche se pensa che sia uno sbaglio dopo che eda se n'è andata se mia dice al suo assistente che ora farà di tutto per impossessarsi di tutta l'azienda melo va da serkan mentre è con balgia e la accusa di non aver bevuto il sorbetto e di aver finto di addormentarsi balgia nega ma serkan le dice che lo ha scoperto anche la polizia e se anche non fosse la colpevole poteva chiedere aiuto per questo motivo la licenzia serkan è completamente immerso nel lavoro e quando eda gli chiede di fare insieme delle scelte per la cerimonia lui delega tutto ad altri eda poi si accorge che quando lei parla lui non l'ascolta per cui contrariata lo lascia solo serkan parla al telefono e riferendosi ad un lavoro in corso dice di aver avuto fretta ad accettare e di aver sbagliato eda lo sente parlare e crede che si riferisca al matrimonio e delusa si allontana più tardi anche serkan sente eda parlare al telefono con un suo professore e dire riferendosi ad un progetto che è stata frettolosa e che vuole rimandarlo anche serkan pensa che eda si riferisca al matrimonio e deluso si allontana arriva la wedding planner e quando illustra le sue idee per la cerimonia sia eda che serkan sono preoccupati e sospettosi uno dell'altro per cui finiscono per delegare tutte le scelte a lei eda e serkan reciprocamente delusi non si parlano e quindi non si chiariscono serkan si lamenta con enghin perché eda ha dubbi sul matrimonio anche eda con melo si lamenta di serkan per lo stesso motivo entrambi gli amici li rassicurano e li sollecitano a parlarsi poi enghin dice a serkan che gli ha organizzato un eccezionale addio al celibato quando serkan dice a eda che il suo addio al celibato è stato organizzato a sapanka in uno degli hotel di ferit si rivolgono delle battutine reciproche senza affrontare il problema e chiarire l'equivoco le ragazze si riuniscono a casa di eda e sono nervose perché tutte hanno bisticciato con i propri partner fifì dice loro che serkan e gli altri assampaca sicuramente si divertiranno con le ragazze che incontreranno tutte si preoccupano e decidono di raggiungerli per controllarli quando raggiungono l'hotel dove si trovano i ragazzi subito li vedono e li sentono dire che sono tristi perché non hanno fatto pace con loro e vorrebbero che si trovassero lì le ragazze non vorrebbero farsi scoprire ma per un piccolo incidente loro le vedono i ragazzi sono felici pensano di aver fatto pace ma loro negano e fanno le sostenute dicendo di essere lì per svagarsi ed e serkan si ritrovano a parlare ma continuano a fraintendersi per cui decidono di rimandare il matrimonio più tardi dopo averla annunciata a tutti eda chiede a serkan di parlargli e mentre bisticciano finalmente capiscono di aver frainteso tutto e che entrambi desiderano sposarsi il prima possibile felici si baciano ed e serkan annunciano agli amici di essersi riconciliati e dopo essersi ripromessi di non fraintendersi più passano dei bei momenti molto romantici il direttore dell'hotel invita i ragazzi a fare da giudici a un concorso di bellezza che si svolgerà lì intanto le ragazze che stanno facendo un pigiama party decidono di fare pace e mandano melo a vedere di nascosto cosa stanno facendo i ragazzi melo li vede mentre comodamente seduti giudicano belle ragazze in costume e subito corre a riferire le ragazze decidono di intervenire e mentre i ragazzi stanno vedendo le concorrenti sfilare in passerella arrivano loro a sfilare in pigiama e a guardarli male subito i ragazzi danno loro il massimo dei voti per calmarle a questo punto le ragazze per perdonarli li costringono a sfilare a loro volta mentre loro li votano i voti che danno variano da zero a uno aidan si ritrova con aifer per definire le ultime cose per il matrimonio e le chiede come mai pur appartenendo ad una famiglia molto ricca abbia scelto una vita modesta aifer le dice che la madre aveva deciso la vita che lei e il fratello dovevano seguire poi quando il fratello aveva disubbidito a se mia per poter sposare la madre di eda si era allontanato e lei lo aveva seguito eda dopo aver scelto l'abito da sposa si reca con le amiche la zia e aidan al bagno turco per svolgere dei riti tradizionali tra canti e balli eda ringrazia aidan per la sua presenza anche se questa cerimonia non fa parte delle sue tradizioni poi le dice di amare molto serkan e che anche lei entrerà a fare parte della sua famiglia aidan le risponde che lei diventerà sua figlia poi la prende per mano e iniziano a ballare secondo la tradizione erdem ha trovato la busta che aveva perso e che è indirizzata a serkan e la consegna ad engin dicendo che è arrivata diversi giorni prima engin è indeciso se darla subito a serkan poi decide di non dargliela visto che sta per sposarsi è il giorno del matrimonio eda con la zia e le amiche si reca nella location dove si terrà la cerimonia e quando arrivano sono festosamente accolte da aidan e seifi e poi tutte iniziano a prepararsi in ufficio ferit è con engin e quando vede sulla scrivania la busta per serkan decide di aprirla e scopre che ci sono dei problemi con le imprese in italia e che quello è l'ultimo giorno utile per intervenire la questione è urgente e grave per cui devono parlare subito con serkan perciò lo raggiungono presso la location del matrimonio e gli consegnano la busta serkan dopo aver appreso la gravità della situazione si reca da eda nonostante tutti vogliano impedirglielo perché non può vedere la sposa serkan come la vede le dice che è bellissima e che anche se rinascesse cento volte risceglierebbe sempre lei poi le dice che deve volare in italia perché ci sono dei problemi e solo lui può firmare i documenti necessari per risolverli eda non è contenta ma capisce la gravità della situazione serkan le dice che nessuno potrà separarli e che sarà di ritorno prima dell'inizio della cerimonia poi la bacia giunta l'ora della cerimonia eda è splendida nel suo vestito da sposa e ai fer le mette al collo una collana appartenuta a sua madre e si commuovono aydan da parte sua le dà un anello appartenente alla sua famiglia poi le viene consegnata una lettera da parte di se mia nella quale oltre a dirle che non parteciperà al matrimonio le ribadisce il suo amore e le allega un documento che attesta che le ha ceduto tutte le quote dell'azienda in suo possesso tutti sono sorpresi e felici perché da quel momento l'azienda appartiene metà a eda e metà a serkan in quel momento arriva a geren una telefonata di ferit che la sollecita ad accendere la tv qui una giornalista annuncia che il famoso architetto serkan bolat si trovava su un aereo privato del quale non si ha più notizia e che potrebbe essere precipitato eda è sconvolta e vede scorrere davanti ai suoi occhi le immagini e le ultime parole che serkan le ha rivolto e l'ultimo bacio che si erano dati poi sviene con questo drammatico colpo di scena si chiude la puntata numero 28 di la vis in the air